Ciao a tutti, sono Elisabetta e sto frequentando un anno in Inghilterra. Io sono felicissima, è una cosa che sicuramente rifarei. La mia host family non avrei potuto averne una migliore, io veramente li amo. Il cibo non vi spaventate perché dopo un po' ti abitui. L'inglese scolastico ve lo potete sognare perché qui è una cosa totalmente diversa. E un consiglio che voglio dare è quello di non abbattersi, godetevi fino all'ultimo questa esperienza perché è una cosa bellissima. Quando tornerete a casa avrete un bagaglio culturale molto più vasto di chi è rimasto in Italia per un anno.